Sono super super contenta di questa bellissima vittoria di Giulia dell'Italvolley maschile. Penso si sia coronato un sogno dopo 24 anni, ci hanno riportato sul tetto più alto del mondo ed è una delle soddisfazioni più belle che penso un giocatore possa provare, soprattutto a distanza di un anno dalla vittoria dell'Europeo e della superimpresa che hanno fatto l'anno scorso. È un'emozione indescrivibile, sono molto orgogliosa di Giulio, se lo merita come se lo meritano tutti i ragazzi che lavorano costantemente tutta l'estate in palestra per poter rendere orgogliosi noi e tutta l'Italia. È uno sogno che si avvera e meritatissimo per questi ragazzi che hanno lottato su ogni palla e hanno lottato per vincere questo mondiale che mai nessuno si sarebbe aspettato. Con Giulio mi sono sentita ovviamente prima di ogni partita ma anche dopo e dopo ogni partita arrivava il momento in cui si diceva la prossima è difficile però ci proviamo, ci proviamo, siamo carichi. Poi è arrivato il giorno della finale, ovviamente non troppa pressione però si siano sentiti ma il momento più bello è stato a fine partita quando c'è videochiamato con la medaglia al collo in spogliatoio con tutti i ragazzi che festeggiavano, è stata una grandissima emozione, è il nostro orgoglio ma soprattutto la pallavolo italiana è il nostro orgoglio. Speriamo in un bellissimo futuro ma diciamo che sono già partiti bene.